Buongiorno e bentrovati. Il 24 marzo giovedì, primo appuntamento con la nostra informazione in regia Massimiliano Chiocchio. Apertura sulla pandemia. Ieri in regione una nuova vittima, si tratta di una 93enne di Boiano. I contagi sono 414 su 2.016 tamponi. Il tasso di positività è al 20,5%. Il numero dei molisani attualmente malati di Covid ha superato così quota 8.000. Nel bollettino anche un nuovo ricovero, mentre i guariti sono 263. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a due cifre in 7 comuni. In testa c'è Campobasso con 86, poi Termoli con 75 e Larino con 23. Seguono Montagano e Isernia con 13 casi e Agnone con 10. Cambiamo argomento soddisfazione generale dopo la firma dell'accordo sulla realizzazione della fabbrica di batterie a Termoli. Si attende però l'incontro tra i sindacati e l'amministratore di Stellantis, Carlos Tavares. Le organizzazioni vogliono conoscere i tempi di trasformazione degli impianti e le ricadute in termini occupazionali. Il servizio di Andrea Nasillo. Le reazioni all'accordo firmato per la realizzazione della Gigafactory a Termoli sono pressoché di generale soddisfazione. I sindacati dopo questo importante passo vogliono incontrare l'amministratore di Stellantis, Carlos Tavares, per capire soprattutto per i lavoratori le tempistiche e il tipo di investimenti, oltre che sugli impianti, anche sulle risorse umane. Tutti vogliono conoscere i dettagli e gli sviluppi del protocollo di intesa firmato dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti con la regione Molise, Invitalia e Automotive Sales Company, la joint venture tra Stellantis, Total Energies e Mercedes-Benz che realizzerà l'investimento nel sito di Termoli. Questo è un grande passo verso la transizione ecologica ed energetica a supporto dello sviluppo della mobilità elettrica. Un'importante notizia per l'Italia, per il Molise e per tutti il mezzogiorno. Queste le parole della vice ministra dello sviluppo economico Alessandra Todde. Un passo ritenuto fondamentale anche tra gli esponenti politici molisani. Questo accordo giunge al termine di un intenso impegno che ha portato, ha detto l'onorevole Antonio Federico, a un investimento totale di 2 miliardi e 300 milioni di euro, di cui oltre 214 milioni per programmi di ricerca e sviluppo. Oltre ai sindacati, anche il primo cittadino di Termoli, Francesco Roberti, vuole conoscere i tempi di trasformazione dell'impianto e quali saranno le ricadute sul territorio in termini occupazionali di riproduzione. L'annuncio ufficiale dell'arrivo della Gigafactory a Termoli porta a una ventata di ottimismo, ma allo stesso tempo, ha detto Roberti, ci induce a non abbassare la guardia per la tutela di un indotto vitale per la nostra economia. Una notizia che attendavamo da tempo a conclusione di un percorso che abbiamo seguito dall'inizio. Molisani che si fanno onore all'estero. Angela Morelli, 47 anni, da 15 anni, svolge un lavoro particolare, l'arte di disegnare la scienza per tutti. Il suo mestiere, infatti, consiste nel tradurre la scienza in informazione visiva. Nel 2012 è stata nominata Young Global Leader dal World Economic Forum per la comunicazione della scienza dell'acqua virtuale e dell'impronta idrica. Una materia che ha insegnato nelle università di Oslo, Londra, Sydney e Parigi. Oggi Angela Morelli è amministratore e delegato di InfoDesign Lab, un'azienda nata dall'idea che per comunicare la scienza in modo efficace è importante progettare in modo partecipativo con il coinvolgimento di coloro a cui è destinata la comunicazione e soprattutto dagli scienziati. Recente è la collaborazione con il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite che studia il riscaldamento globale. L'UNCEM Molise lancia l'allarme. L'indice di vulnerabilità sociale e materiale dell'Istat è inutile e dannoso. Paione, sindaco di Capracotta e presidente UNCEM Molise, afferma basta guerre tra poveri, servono strumenti che effettivamente aiutino la classificazione dei comuni e individuino le necessità dei territori. Ce ne parla in questo servizio Enzo Di Gaetano. Un indice per catalogare i comuni si chiama Indice di vulnerabilità sociale e materiale. Il VSM lo ha introdotto l'Istat con l'obiettivo di fornire una misura sintetica del livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani. Combinando sette fattori elementari che descrivono le principali dimensioni materiale e sociali della vulnerabilità, l'indice fornisce elementi per l'individuazione di potenziali aree di criticità e dovrebbe favorire confronti tra i territori. Questo almeno nelle intenzioni ma l'indicatore suscita perplessità ed ha già scatenato un vivace dibattito. Tra le voci maggiormente critiche quella di Marco Bussone, presidente nazionale dell'UNCEM, Unione dei Comuni Montani, secondo cui si tratta senza mezzi termini di una classificazione assurda e dannosa che ha già prodotto i primi danni, ad esempio per i finanziamenti della rigenerazione urbana. Primo bando è nella scelta dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti del Fondo Comuni Marginali. Applicarlo anche per i bandi del PMRR, secondo Bussone, sarebbe dannoso due volte perché si aumentano le disuguaglianze e si riduce la reale portata delle opportunità di finanziamento. Insomma, per Bussone l'indice va accantonato a vantaggio di una vera e seria valutazione nel merito dei progetti che vengono presentati. Io sono esattamente della stessa lunghezza d'onda, dice Candido Paglione, Sindaco di Capracotta e Presidente Uncem Molise. Si tratta di un'assurda modalità scovata per classificare i comuni e ancora una volta metterli l'uno contro l'altro. Secondo l'IVSM, ad esempio Capracotta, che ha subito e continua a subire un trend di spopolamento pazzesco, non viene considerata come un comune marginale e quindi non necessita di interventi di sostegno alla sua popolazione residente. E come Capracotta ci sono Pesco Penataro, vasto girar di pietra abbondante tanto per rimanere in Alto Molise, mentre altri comuni che hanno situazioni simili, se non più favorevoli, si trovano a beneficiare di importanti finanziamenti. Credo, conclude Paglione, che occorra rivedere con urgenza questi parametri prima che possano diventare strumento di selezione per gli altri bandi del PNRR ed adottare criteri che effettivamente aiutino a superare le criticità senza scatenare inutili e dannose guerre tra poveri. Ed ora un appuntamento del nostro palinzesto, questa sera alle 20 e 50 il consueto appuntamento con la trasmissione Il Molisano a cura di Tonino Danese, nella quale si parlerà di allevamento di bufale e produzione di formaggi con il latte di bufala. In particolare scopriremo l'attività dell'azienda Il Girasole, nata a Rotello negli anni 90, grazie all'impegno di padre Lino Iacobucci, nell'ambito del più ampio progetto di recupero di persone cadute nella dipendenza della droga. Una storia di imprenditoria e di impegno sociale. Capiremo come è stato possibile creare su 5 ettari di terreno un allevamento di bufale all'avanguardia e come viene portato avanti sfruttando tutto ciò che la natura offre. Con il casaro Sergio Caterino e i suoi aiutanti Gianni e Nicola. Vedremo poi come si realizza la mozzarella di bufala e non solo. Dunque l'appuntamento ve lo ricordo questa sera alle 20.50 su Tele Molise con il Molisano. E con la prima edizione del Tg è tutto. Adesso uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Siamo sul giornale del Molise. In evidenza il Covid. Una nuova vittima e 414 contagi. Gli attualmente positivi superano quota 8.000. Si parla anche della Gigafactory a Termoli. Firmato il protocollo d'intesa. Toma dice ce l'abbiamo fatta. Molisannio amoroso di noi di centro. Il dialogo è istituzionale non politico. Vediamo qualche altro titolo sul giornale Molise. Rigiocattolo. Sant'Angelo del Pesco dona giocattoli usati ai bambini che soffrono in Ucraina. Sempre in home del giornale Molise. Università del Molise. Banca d'Italia. Convenzione per favorire lo sviluppo della formazione. C'è anche questa notizia curiosa. Il molisano Felice Cornacchione compie 100 anni. Festa sorpresa nell'ufficio postale di Imola. Dal web alla carta stampata con primo piano. Apertura politica. Centrodestra. Toma. Porte aperte ai coordinatori ma non accetto interferenze. Il presidente giudica positiva la reunione di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. A nessuno però venga in mente di influenzare le decisioni o di agire senza avvisarmi. Ha evidenziato. Sulla sanità bando per prorogare i medici venezuelani. Per quanto riguarda il reparto di pediatria Sant'Angelo firma il contratto da primario. Andiamo a vedere gli altri titoli. Indice di vulnerabilità dei comuni. Il codice manda a K.O. il Molise. Altissimo. L'avete sentito anche nel nostro Tg. Paglione. Sindaco di Caparacotta. Lancia l'allarme. La nuova classificazione ci considera area non marginale. A rischio l'assegnazione dei fondi del PNRR. Taglio basso. Commissione pari opportunità. La garante si schiera con la selva. Lanciano chiede al Consiglio di respingere le dimissioni. Di spalla il bollettino Covid. Un decesso, un ricovero e 414 contagi. Più di 8 mila i casi attivi. Tra gli altri richiami sul piano dei trasporti. Il primo piano scrive spariscono, mette tra virgolette, un milione di chilometri e 156 corse. Poi per la questione della guerra in Ucraina. Via dall'inferno a piedi scalzi. Mamma e figlie accolte a Limosano. Da Termoli. Oggi rientra la Salma. Domani i funerali di padre Luigi Russo. Cordoglio unanime. E c'è questa vicenda a Campobasso. Antenna telefonica installata nel giorno della mozione. Che tempistica scrive. primo piano. Il punto oggi porta la firma del parlamentare Antonio Federico. Sanità e responsabilità. È il titolo. Lo sport sotto la testata. Foggia Campobasso. Tanti tifosi al seguito. Solo una vittoria. Rosso-blu allo Zaccheria. Nel campionato di eccellenza. L'Isternia si prepara al doppio confronto tra campionato e Coppa. Invece per il basket. Gioia Magnolia. Baldassarre. Convocata in nazionale Under 15. Le questioni economiche legate alla guerra in Ucraina. Oggi sulle prime pagine di quasi tutti i quotidiani nazionali. Non solo vicende economiche ma anche altri aspetti come questo spettro delle armi chimiche. Titola il Corriere della Sera. Siamo a Kiev. Usano bombe al fosforo. Intanto Biden minaccia. Parla di minaccia reale. E oggi arriva a Bruxelles. Draghi. La spesa militare al 2% del prodotto interno lordo. Dicevamo le questioni economiche. Andiamo più in basso. Gas. La sfida di Putin. Pagatecelo in rubli. E c'è il balzo dei prezzi. Andiamo a vedere Repubblica. Che oggi riporta un'intervista a Zelensky. La guerra lampo di Putin è fallita. Dunque dice il Presidente ucraino. Le nostre città sono devastate ma noi resistiamo. Il nemico è demoralizzato. L'intervista di Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica. Prime defezioni russe. Intanto l'ex vice premier Kubais lascia il paese. Il sindaco di Kiev. Irpin quasi riconquistata. I campi allagati fermano i tank russi. La mossa intanto del Cremlino per aggirare le sanzioni. Solo rubli per il nostro gas. E Draghi pressa l'Unione Europea e prepara nuovi ristori. Anche in deficit aggiunge la Repubblica. Il fatto quotidiano. Putin ci frega sul rublo e aggira le sanzioni. Altro che default. Scrive il quotidiano di Travaglio. Non più dollari o euro. Solo moneta russa che si dà forza. Il gas dunque alle stelle. Zelensky ora difende Abramovic. Intanto Unione Europea. Ucraina lontana. Per entrarci. Kiev deve prima liberarsi degli oligarchi. Combattere il sistema corruttivo e garantire più diritti. Diritti. Dal fatto quotidiano a Libero. Ieri questa notizia ripresa in apertura oggi. Dal quotidiano. Attacco russo alle ferrovie italiane. Un altro avviso da Mosca. Hacker in azione. Bloccate le biglietterie elettroniche in tutto il paese. È un segnale del Cremlino. I nostri sistemi informatici sono esposti. Chiudiamo anche Libero per dare uno sguardo all'apertura del quotidiano romano Il Tempo. Draghi fa l'americano. Il Premier apre all'import di gas liquido dagli Stati Uniti. Ma non abbiamo gli impianti. Sulla difesa alza al 2% del prodotto interno lordo. Gli investimenti militari. Come promesso alla Nato. Ma sulla corsa alle armi i grillini guidati da Conte preparano lo scontro in aula. Dunque questa è l'apertura del Tempo. Adesso il mattino. Putin in difficoltà. Il ricatto del gas. Gli ucraini si riprendono anche Irpin. Dimissioni e tensioni intanto tra i big di Mosca. L'energia da ora si paga solo in rubli. Il rublicone è il titolo di apertura del manifesto. Sulla questione chiaramente del rublo. Dunque scrive il quotidiano comunista. Putin risponde alle sanzioni. I paesi ostili paghino il gas in rubli. La moneta russa sale e schizzano i prezzi energetici. Oggi intanto arriva Biden in Europa e Washington annuncia. In Ucraina crimini di guerra. Mariupol e Cernyhev nella morsa finale dell'esercito di Mosca. E chi ave denuncia? Irpin usate. Armi al fosforo. Aggiungiamo noi che sono vietate. Avvenire gas. Contrattacco di Putin. Anche qui si parla dell'ultima mossa di Putin. Il Cremlino chiede di pagare l'energia solo in rubli. Il prezzo schizza le stelle. E Kiev accusa intanto i russi. Usano bombe con fosforo bianco. Pio in basso. Francesco chiama la chiesa alla preghiera per la pace. Domani la consagrazione di Russia e Ucraina. L'invito a unirsi a tutte le diocesi. Il sole 24 ore. Sfida di Putin. Titola in apertura solo rubli per il gas. E il prezzo sale fino al 34%. E le borse vanno giù. Il piano europeo intanto per il gas. Riserve e acquisti comuni. Draghi. Eurobond. Anche per clima, energia e difesa. Siamo sulla stampa adesso. Sfida di Putin. Vogliono rubli per il gas. Abbiamo visto dunque che tutti i quotidiani aprono con questa notizia. Intanto andiamo a vedere anche altri titoli. C'è un'intervista. Conte boccia le spese militarie. Voteremo no all'aumento. Si è detto appunto di portare al 2% del prodotto interno lordo. Siamo sulla verità. Queste sanzioni non funzionano. La beffa di Putin. Pagatemi gas e petrolio in rubli. La Russia non è isolata. Può contare sull'appoggio di molti stati. Le stesse aziende occidentali si rifiutano di lasciare il paese. Che infatti non si piega. Anzi rilancia. La sua moneta si riequilibra. Il prezzo dell'energia sale ancora. E gli europei sono in difficoltà. La loro economia dipende da quelle forniture. Washington intanto chiede di chiudere i rubinetti. ma sarebbe un suicidio. Andiamo a vedere a fondo pagina quest'altra notizia. D'Alema perde la testa in tv sul caso Colombia. Parolacce e le rabbia dell'ex premier al Iene. Si parla di una presunta contrattazione per la vendita di armi alla Colombia. Ora lo sport. Questa sera un importante, diremmo anche fondamentale appuntamento per la nazionale di Mancini. facciamo l'Italia. Titola la gazzetta. Dice attenzione si va in finale con umiltà e pazienza. Stasera il primo spareggio verso Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord. Il commissario tecnico Mancini schiera l'euro tridente cioè Berardi immobile e insigne. Giochiamo come siamo capaci, ha detto il CT. Bene, anche oggi con la gazzetta terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per averci seguito. Vi ricordo alle 14 la seconda edizione del telegiornale. Buona giornata.